Ciao, buongiorno a tutti. Oggi parliamo sicuramente di un sintomo molto fastidioso, ovvero sia il mal di pancia e la diarrea. Allora intanto bisogna dire che la diarrea di per sé non è una vera malattia, ma il sintomo in realtà di un altro disturbo. Se accompagnata da febbre, da nausea e da vomito, se si prolunga ad esempio per più di due giorni, oppure in presenza di sangue nelle feci, occorre consultare immediatamente un medico. Il sintomo principale qual è? È la frequente eliminazione di questo materiale intestinale che è stato acquisito attraverso chiaramente l'alimentazione e non formato. Può essere presente anche ad esempio un dolore addominale e può essere provocata anche da intossicazioni alimentari, da stress, da influenza e anche da culite. Vediamo insieme quali sono i rimedi che possiamo utilizzare. In caso di diarrea sicuramente l'estratto di pompelmo lo possiamo assumere in questa maniera, 5 gocce in un po' d'acqua per 3 volte al giorno e poi inserirei anche un macerato glicerico che si chiama ficus carica. Assumiamo 70 gocce di questo macerato in un po' d'acqua per 2-3 volte al giorno. Alimentazione importantissima, dobbiamo evitare l'assunzione di cibo solido almeno per 24 ore e bere acqua, oppure 2 cucchiai di succo di mela del tipo trasparente ad intervalli di 15-30 minuti. Quindi successivamente possiamo introdurre il riso bollito e le carote. Bene, anche oggi abbiamo terminato con questo nuovo video. Abbiamo parlato chiaramente della diarrea, vi ho dato un paio di consigli utili su come poter intervenire. Vi auguro una serena e splendida giornata. Se ti è piaciuto questo video metti un like, condividilo con i tuoi amici. Noi ci vediamo prossimamente con un nuovo video legato sempre al pronto soccorso naturale. Un caro saluto da Luigi.